Omega Speedmaster Professional Moonwatch Moonfast, l'armonia tra tempo e luna. L'orologio da polso Speedmaster Professional Moonwatch Moonfast è un'espressione sublime dell'arte orologera, combinata con l'innegabile fascino lunare. La caratteristica distintiva dello Speedmaster Professional Moonwatch Moonfast è la sua affascinante complicazione lunare. L'indicatore di fase lunare, posizionato a ore 6 sul quadrante, mostra le diverse fasi della luna mentre attraversa il suo ciclo. Questa complicazione si può trovare anche all'interno del subquadrante condatario a ore 12 oppure all'interno del subquadrante cronografico delle ore a ore 6, mentre all'interno del subquadrante cronografico dei minuti si può visualizzare anche sia il mese che il giorno in due finestrelle a ore 12. Un'altra caratteristica distintiva di questo modello è la sua funzione cronografica, visibile su due subquadranti a essa dedicati. L'orologio può essere bicompax con due subquadranti o tricompax con tre subquadranti. Alcune versioni di questo modello possono avere un subquadrante cronografico e un subquadrante condatario e possiamo trovare anche il contatore dei piccoli secondi a ore 9. Lo Speedmaster Professional Moonwatch Moonfast presenta anche la scala tachimetrica e il calendario perimetrale indicato da una lancetta centrale e può essere scheletrato e con indici in zaffiro. Mantenendo l'eredità del Moonwatch originale, lo Speedmaster Professional Moonwatch Moonfast conserva la connessione con l'esplorazione spaziale. Numerose celebrità hanno dimostrato un profondo apprezzamento per il design senza tempo del Moonwatch Moonfast. Da attori a musicisti, il suo fascino senza tempo e la sua connessione con la Luna lo rendono un accessorio di stile iconico e sofisticato. Il movimento meccanico al cuore del Moonwatch Moonfast è costruito per la precisione e la durata. Ogni dettaglio è curato con maestria, garantendo un funzionamento impeccabile e la possibilità di apprezzare la complicazione lunare nel suo splendore. Questo orologio non è solo un'icona estetica, ma ha dimostrato di avere prestazioni straordinarie. Ha affrontato le sfide dell'ambiente spaziale e le rigide prove a terra, dimostrando la sua affidabilità in ogni situazione. Con il suo design classico, la sua affascinante complicazione e il suo riconoscimento nelle sfere dell'orologeria e dell'esplorazione spaziale, continua a catturare l'immaginazione di orologiai e appassionati di tutto il mondo.